Che palle co' sto medioevo! E che palle co' sti pirati, co' sti samurai e con questi onnipresenti vichinghi! Ragazzi, oggi vi parlerò dell'epoca più bella e interessante della storia. Quando si vuole mettere in scena una storia di uomini d'arme e di battaglie, che sia un romanzo, un film, un videogioco o un fumetto, i periodici storici in cui sono ambientati sono sempre gli stessi, ignorandone una marea di altri, fra cui il più interessante di tutti, ossia il Rinascimento. Di film ambientati nel medioevo ce ne sono a centinaia, mentre ce ne sono appena una manciata su quelli che sono stati i secoli più incredibilmente affascinanti per quanto riguarda battaglie e storie di uomini d'arme. Cioè, regà, rendetevi conto che nel Cinquecento c'erano letteralmente dei cavalieri con delle pistole, cioè proprio dei cavalieri in armature di piastre, ma con le pistole! Ma di che cosa stiamo parlando? Comunque vi faccio un po' un quadro generale. Siamo alla fine di una lenta transizione fra quello che era il nobile cavaliere medievale all'uomo d'arme rinascimentale. E le differenze sono sostanziali. Mentre all'inizio del basso medioevo la nobiltà guerriera era praticamente il fulcro e unica parte veramente efficace degli eserciti, dal Trecento in poi, andando in avanti nei secoli, le compagnie mercenarie, sempre più organizzate, vanno a rendere il cavaliere pesante medievale sempre meno rilevante. Fino ad arrivare agli inizi del Cinquecento, dove la migliore cavalleria del mondo, ossia quella francese di Francesco I, si vede sconfitta dagli archibugiari imperiali, decretando la fine del cavaliere, della figura del cavaliere pesante. Anche se questo non significa che l'aristocrazia guerriera non li abbia mai più schierati. Ma di questo, ragazzi, ne parliamo dopo. Intanto però vi volevo ricordare che questa meravigliosa maglietta l'ho presa su Feudalesimo e Libertà, dove con il codice sconto ADRAS potete avere il 10% di sconto su tutti i prodotti. E non ci sono solo le magliette, ma ci sono anche libri alcolici, boccali e gingilleria varia. Ma torniamo dunque ai nostri uomini d'arme rinascimentali. Chi erano costoro? Gente reclutata dal volgo a cui hanno messo una lancia in mano e mandati a combattere? Beh, no, ragazzi, decisamente no. Soprattutto nell'Italia del 500 siamo di fronte a un'elite privilegiata, esattamente come lo era il cavaliere medievale. Molti di loro sono infatti ragazzi mandati dal maestro d'arme da bambini per imparare il mestiere delle armi. Quindi tanti sono figli di gente ricca e che investe sulla propria prole. Altri invece sono effettivamente reclutati dal volgo, ma comunque da molto giovani e addestrati come si deve, ma soprattutto equipaggiati con il meglio del meglio. Armature di piastre, splendidi corsaletti d'acciaio fatti su misura, picche, archibugi, falcioni, cinquedei, schiavone, ronche, rotelle d'acciaio, grandi spadoni e chi più ne ha più ne mette. Questi ragazzi sono solo alcuni degli strumenti degli uomini d'arma italiani del 500. Ma veniamo dunque al modo di fare la guerra cinquecentesca e seicentesca, ossia il pike and shot. La formazione di picche diventa la fortezza umana delle battaglie, un impenetrabile baluardo irto di punte lunghe fino a sei metri, una fortezza in cui si rifugiano tutte le altre unità, dal cavalleggero all'archibugio. Ed è ovviamente per quello che si chiama pike and shot, perché la tattica più comune utilizzata è proprio quella degli archibuggeri che sparando di fianco alla formazione di picche vi si rifugiano per difendersi in caso di eventuali cariche nemiche. Ma in tutto questo chiaramente non abbiamo solo picchieri archibuggeri, abbiamo altre meravigliose armi unità. Abbiamo gli armati dinastati come alabarde o ronche, perfetti per contrastare e tentare di scompaginare le linee di picche. Abbiamo le grandi spade, perfetti schermagliatori per difendere gli stendardi nelle retrovie. E abbiamo poi i roteglieri, armati di scudo tondo, ottimi incursori ma validissimi anche nella difesa. Per non parlare poi delle artiglierie, o dei cavalleggeri armati di spada a due mani, o dei pistolieri e archibuggeri a cavallo, che solo questi, secondo me, sono di una bellezza disarmante. Ed è appunto un periodo meraviglioso da raccontare, perché sì che abbiamo la tecnologia delle armi da fuoco, ma non sono ancora abbastanza sviluppate e potenti da soppiantare le armi bianche. E le battaglie si combattono ancora a tutti gli effetti con spada e armatura. E badate bene che finora ho parlato solo del mondo militare, ma c'è tantissimo anche nel contesto civile. Cioè, vi spiego, le spade civili sono totalmente diverse dalle spade militari. E siamo nell'epoca d'oro del duello d'onore, dove un litigio fra due nobili uomini d'arme può diventare un evento seguito e ammirato da centinaia di persone. Siamo nell'epoca in cui è vietato girare in città con più di un'arma, ma i bravi che scorrazzano per le vie dell'urbe nascondono pugnali, doppie spade, daghe a compasse, brocchieri e pistole a ruota. Fra l'altro, dove se le nascondevano queste armi? Ma è ovvio, ragazzi, sotto la cappa, indossata ad armacollo, che portata così era un chiaro segno che eri uno che stava cercando guai. Anche perché la cappa stessa è un'arma e ci ho fatto anche un video in merito. Comunque sì, era tutta brutta gente, per carità, ma da cui poter tirare fuori storie incredibili. E fra l'altro siamo nell'epoca della sperimentazione più sfrenata per quanto riguarda le armi. Abbiamo letteralmente delle gun blade, cioè delle spade pistola. E questo perché dall'invenzione dell'innesco a ruota, le bocche da fuoco le iniziano a mettere praticamente ovunque. Nel Rinascimento, praticamente in ogni tipologia di arma bianca, viene applicata una bocca da fuoco. E parlo di alabarde, partigiane, asce e addirittura scudi. E questo perché l'innesco a ruota è proprio l'invenzione geniale di questo periodo. Un capolavoro di meccanica di una complessità pazzesca. C'è però da dire che questi erano più che altro che sperimenti costosissimi, roba che magari commissionava qualche ricco nobile. E infatti oggetti del genere sono quasi sempre, anche finalmente, incisi e cesellati. Ma vabbè ragazzi, ormai se mi seguite da un po' lo sapete che in queste epoche il mestiere delle armi era una roba per ricchi. E a proposito di incisioni e cesellature, ma vogliamo parlare di quanto stilisticamente sia incredibile il Rinascimento? Siamo all'apice dell'arte e dell'artigianato artistico. E questo ovviamente si riflette anche nel mondo delle armi. Ci sono uomini d'armi che sono disposti a spendere cifre astronomiche per i loro gioiellini. E fra l'altro, parlando di stile, non possono non menzionare i meravigliosi Lanzi Chenecchi. La moda Lanza, prese piede alla fine del Quattrocento, fra le compagnie mercenari tedesche, al soldo del sacro Romano Impero Germanico. E io la trovo incredibilmente bella. Tutti quei sbuffi, quei tagli e quei grandi cappelli piumati. Ma raga, ma che glie vuoi dire? E certo è che sono ben diverse dalle uniformi dei soldati che vediamo dal Settecento in poi. E fra l'altro, questa moda e questa voglia di apparire nel Rinascimento è estremamente sentita fra i soldati. Non è solo un vezzo dei comandanti o dei più ricchi. Pensate che c'è una cronaca di un soldato che con il suo bel vestito verde si ritrova a scappare da dei nemici e nel momento di attraversare un fosso si rifiuta perché non voleva sporcare le sue scarpine di velluto verde. Così i compagni lo abbandonarono e gli inseguitori lo presero e uccisero. Comunque, se vi piacciono i Lanzi Chenecchi, secondo me vi dovrebbe piacere anche questo video, quindi perché non metterci un likeettino? Ad ogni modo vi ho parlato del fatto che ci sono state delle cavallerie pesanti anche nell'epoca moderna. E parlando di cavalieri coperti di piastre, ragazzi, non posso non citare gli ussari alati, che sono letteralmente dei cavalieri medievali con le ali. Cioè, raga, questa è una roba che supera un qualsiasi fantasy. E badate bene che gli ussari alati non erano un gruppettino d'elite puramente estetico, ma erano il nerbo della cavalleria dell'esercito del regno di Polonia. Polacchi, che se lo potevano permette perché erano smodatamente ricchi, ed erano anche il terrore della Russia. Anche se questa è una cosa che un po' mi intristisce, ma vabbè. E a proposito di fantasy, anche lì viene sempre preso a riferimento un vago tardo medioevo e quasi mai l'epoca più bella della storia. Tranne un rammer fantasy, che è praticamente l'unica ambientazione di successo che prende a riferimento il Sacro Romano Impero d'inizio Cinquecento. Ed è infatti l'ambientazione più bella di sempre. Tranne ovviamente il Signore degli Anelli, quella è proprio fuori categoria. Comunque ragazzi, che dire? Aspettate. Queste narrazioni sono solo la superficie di quanto sia interessante il periodo del Rinascimento. E questo 2024, ragazzi, sarà pieno di videarelle in cui ne parlo. Quindi, se vi interessa, non rimane che iscrivervi al canale e far rintoccare quella bella campanella. A presto, armigeri! A presto, armigeri!